Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Con questo video voglio presentarvi le prossime uscite di settembre in modo tale da dare una bussola direzionale nella quale sappiamo più o meno che cosa uscirà. Allora, abbiamo come al solito nei lunedì e i venerdì l'uscita di Alien Isolation finché non riusciamo a completare il gioco. Poi abbiamo di martedì e di giovedì la new entry per poter finire rapidamente le lezioni di Division Designer per Hearts of Iron 4, che sono 4 lezioni totale, poi dopo vedrò se farne delle altre, se serviranno meno per la gestione del gioco come produzione, ricerca e via dicendo. Il mercoledì abbiamo alla mattina la pubblicazione finalmente del continuo di Ultimate General Gettysburg fino alla fine della campagna. Poi abbiamo sabato e domenica la new entry che è Crusader Kings e il Ducato di Milano. Ho intenzione di farlo per adesso solo tramite episodi, non tramite live. E in quanto la live vera e propria verranno fatte di mercoledì. Poi dopo se ci sarà occasione di farla anche in altre giornate lo faremo, però questi sono i giorni fissi, non dobbiamo dimenticarci. E come al solito riprendiamo con Unnecessary Pixels, Paolo, con le nostre giocate. Non faremo Hearts of Iron 4 ma faremo altri giochi in cooperativa. Saremo fissi a mercoledì alterni, quindi per esempio questo mercoledì che è il 7 cominciamo, poi dopo faremo anche il 21. Ma è possibile che prima di poter cominciare in maniera fissa con le date, incomincieremo anche a fare dei piccoli test. Quindi è probabile che faremo magari due mercoledì di seguito o anche tre mercoledì di seguito. Adesso dobbiamo ancora decidere però questo settembre così per riuscire a ripartire con gli stream. Di preciso non sappiamo ancora bene cosa giocare, ma non sarà una cosa leggerina, ecco, già così. Saranno giochi divertenti, almeno per quello che abbiamo già incominciato a vedere per fare i primi test. Io spero che possano piacere anche a voi. Come al solito abbiamo Hearts of Iron 4 invece, che perdura con le sue uscite ogni giorno della settimana. E quindi questo è quanto. È probabile che magari nei giorni vuoti che vedete, in queste giornate, grigie, riuscirò magari a mettere fuori i titoli che non ho più toccato, che non ho previsto la loro uscita. Cioè tipo This is the police. Però è tutto da vedere e devo vedere se riesco soprattutto a pubblicare, perché il tempo è poco, anche se ne ho tanto a disposizione, ma per registrare, preparare, grafica, encoding, upload, scrivere, eccetera, tirano via un bel po' di tempo. Quindi, bando alle ciance e ci vediamo per il prossimo video che sarà quello di, beh, in questo caso Alien Isolation, l'episodio 20. Ciao a tutti!